ci sono misteri che sono misteri altrimenti li chiamavano cipolle ci sono misteri che non scopriremo mai come se la mucca fa mu perché il cavallo non fa ca ma ci sono altri misteri che potremo scoprire attraverso il nostro approfondimento quark il sapere a portata di piede o di mano